Entra in Urmet Premiati, la nuova app che premia la tua fedeltà. Più acquisti, più punti accumuli, più premi porti a casa. Come funziona? È facilissimo! Scarica l'app Urmet Premiati, registrati e ad ogni acquisto scansiona il QR code presente sul prodotto e carica i punti. Raggiunta la soglia desiderata, potrai scegliere e richiedere i premi del catalogo in ogni momento. Cosa aspetti? Scarica e premiati! Grazie a tutti!